Federica, ormai ci siamo, domani questa sfida che vale è un bel pezzo di campionato. Sì, domani è la partita che aspettavamo da tanto tempo, fino adesso abbiamo trovato sul nostro cammino non le squadre da abbattere, quindi domani sarà una di queste, ma questa settimana abbiamo preparato al meglio la partita, ci siamo preparate al meglio, sappiamo come dobbiamo giocarcela e speriamo di far bene. Sarà una gara diversa da quella di Supercoppa quando le due squadre erano ancora in rodaggio? Beh sicuramente sì, adesso abbiamo nelle gambe più di qualche minuto e comunque è una squadra che noi conosciamo bene, ma sappiamo che contro di loro vogliamo sempre far bene come loro vogliono far bene con noi, quindi credo che sarà una bella partita.